66esima edizione del Carnevale Massafrese, come dicevamo Massafra si riempie di coreandoli e di colori non potevamo che iniziare con un'intervista al primo cittadino Fabrizio IV un appuntamento che ormai è diventato una tradizione quella del Carnevale Massafrese ma ogni anno si aggiunge sempre qualcosa di più Sì, un appuntamento che è una tradizione, appunto 66esima edizione del nostro Carnevale è un'occasione importante, siamo Carnevale storico riconosciuto dal Mibact Massafra è divenuta da poco riconosciuta città d'arte quindi è un'occasione quest'anno per rilanciare ancora di più il nostro Carnevale stasera si parte con la sfilata più importante della Kermess che inizierà tra poco alle 17 qui dall'area del campo sportivo e poi terminerà in piazza Vittorio Emanuele avremo un ospite di eccezione che è Rossella Brescia e poi sette magnifici carri allegorici mastodontici che sono delle vere e proprie opere d'arte che sono in fase di ultimazione del montaggio delle fasi di sistemazione dell'audio che sono qui da un giorno e mezzo sono state montate per avere una serata sì di allegria, di goliardia ma soprattutto di sicurezza di tutti coloro che verranno a Massafra a godere di questo Carnevale Quanto lavoro c'è dietro una manifestazione come questa? Diciamo che c'è un lavoro impressionante che non si coglie con la semplice manifestazione perché c'è un lavoro che riguarda l'aspetto della sicurezza che coinvolge numeri importanti perché ci sono tra protezione civile, pulizia locale, security ci sono almeno 160-170 persone impegnate poi ci sono i maestri cartapestai che lavorano due o tre mesi prima di questo evento per offrire queste opere alla popolazione di Massafra ma non solo e poi c'è tutto un lavoro anche amministrativo degli uffici che coordinano le procedure amministrative per realizzare questo impegno importante ecco perché l'attività in primis deve essere seguita dal sindaco perché si tratta di un evento tra i più importanti della nostra città e quindi in prima persona il sindaco se ne deve occupare come quest'anno credo di aver fatto